Ringraziamo il Presidente, è stato detto tutto, dunque un minuto semplicemente per dire che c'è un'affare importante che è stata detta qui fra i gruppi, c'è stata una convinzione stampata, firmata nel 2016 tra il Stato, il Babilia del Brevetto e il Presidente dell'Esegutivo G. Simeone per l'abattura di scuole immersive in un quattro pubblico. C'è un'aspirienza che è stata detta in un rapporto spiegato, è stata detta in un rapporto spiegato, è stata detta in un rapporto di un'aspirienza in modo ampirico, personale, da un'appo, da un'amma, e poi abbiamo sapere che ci sono molto buoni, ma abbiamo sapere di più. E' stata detta in un rapporto spiegato, ne abbiamo sapere di più, dunque domanda una valutazione appadata, congiunta tra l'agulatività della reddoria di Gorsica e il Stato, ma al di là di a valutazione di ciò che era zinawa una sperimentazione, ma di boi a let e raguadone più una sperimentazione, e di una possibilità che è data, e il Ministro dell'Advocazione nazionale non è mica un'avanzata, ma ha mandato a salire di raguadere a fuori di esperimentazione, all'insieme di retori, all'insieme di gabistabilimenti, all'insieme di rispettori, per propone questa possibilità di insegnamento immersivo. Dunque noi, se che noi oriamo in rapporto stretto stretto stretto, con rapporto spiegato, di una valutazione di dispositivo passato, ma soprattutto un rinuilamento di agonminzione tra il Stato e l'agulatività di Gorsica, e al di là di un rinuilamento, edificio, ed isabarola, un agrescimento soprattutto di dispositivo, perché il scopo è di gruppare l'insegnamento immersivo nella totalità del territorio di Gorsica, e a tutti i cittadini di Gorsica. E al momento là, il Stato non si può mica scarregare, dunque io sono mica qui, un diungo mica qui, per fare un processo d'intenzione di pettare il Stato, dicendo che ciò che l'ha fatto il Stato l'anno passato, può fare, può firmare, può accresce. Ma ciò ha detto una cosa, che se noi non mettiamo mica pressione al Stato, per ripassare la convinzione al Stato, ciò non è mica male per noi. Dunque, come il rapporto spiegato, insiste, assai non è che dice che di un punto centrale di Anosh Raboudi, dica, e che ci sono i drogi amici nella deliberazione, ma si barri è che la deliberazione in calca non è il tema progetto che ciò saluta, non è l'aiuto alla socia che ciò saluta, ma ciò di noi ha insiste assai perché ce che vi provo con questo mandamento, non è un appuntamento in anticipo di sicurezza del ZPR, che è stata da me, io prima del ZPR, e dopo la discussione non è la convinzione, ma come, dunque io, di un rapporto non è l'immersione, un appuntamento, come furia possibile, che è un privato, per rinunire la convinzione, accresce e l'evaluta, ciò che è stato basato, perché è il scopo di permettere, sinceramente, di un'immersione all'insieme di città in Corsica, e questo è stato la sua responsabilità. Grazie. Grazie. Grazie.